Per avere una carta di riserva da giocare non c'è una ricaduta immediata, è una carta di riserva che si riserva alla città di Salerno a prescindere dalle vicende societarie proprio per non avere problemi anche per il futuro, ma non è niente di più che una carta di riserva da giocare se e quando dovesse essere necessaria. Oggi noi dobbiamo puntare innanzitutto a uscire quanto prima dall'inferno della serie D e non sarà facile e poi dobbiamo puntare tutti quanti insieme, per questo dico che non ci sono diversità fra di noi, ad avere la nostra maglia granata che è il simbolo forse più forte della nostra immagine sportiva, la maglia granata, la nostra denominazione, la Salernità, ovviamente sapete che non dipende tutto da noi, da noi dico Salerno, il comune per la verità non c'entra proprio niente, chiariamolo ancora una volta che il problema è la società, io più che sollecitare la società, ma lo faccio io come lo fanno tutti i tifosi, non è che devo mettere le bandiere o dirlo con i microfoni quello che faccio, è chiaro che premiamo tutti quanti per avere quanto prima possibile la maglia granata, le denominazioni, i simboli, tutto, ma ripeto le vicende le conoscete voi e sono vicende che non abbiamo creato, noi le abbiamo subite perché ci sono state persone che non hanno voluto pagare neanche i soldi per l'iscrizione al campionato, oltre che pagare i soldi per far viaggiare la squadra per andare a fare i playoff, lasciamo per, guarda non ne voglio parlare più, ma insomma per amore, per amore di verità.